Romeo Musa riprese a insegnare dopo il conflitto e a lavorare come artista, pittore e incisore sul legno, nonostante la xilografia, suo primo amore, fosse tecnica ormai caduta in disuso. Fu l'insegnamento che lo portò in Molise per un lungo periodo, nove anni, dal 1924 al 1933. Romeo Musa soggiornò tra il 1924 e il 1933 in Molise. Se vogliamo uno spazio anche cronologicamente molto limitato nel panorama della sua vita, nove anni soltanto, eppure fu un periodo per noi interessantissimo, ma determinante, particolarmente ricco di stimoli per la sua intera produzione artistica. Come arrivò innanzitutto Romeo Musa in Molise? vinse una cattedra presso il regio istituto magistrale di Campobasso. Il fatto che arrivò e che risiede in pianta stabile a Campobasso è importante, non è un dettaglio trascurabile. Questo perché vedremo come piano piano, ma ripeto, nell'arco di poco tempo, sostanzialmente, Romeo Musa riuscì ad inserirsi perfettamente, quasi a mimetizzarsi addirittura, se vogliamo, all'interno dell'intelligenza cittadina dell'epoca, prendendo contatti, ma più che contatti, stringendo delle sincere e strette amicizie con personaggi di spicco della cultura molisana e anche Campobassana dell'epoca. Primo fra tutti Alfredo Trombetta, il grande fotografo storico del Molise, naturalmente assieme ad Antonio Trombetta. Ed è molto importante questo perché lui era un appassionato di fotografia e magari in Molise lui approfondì questa passione e affinò anche la passione fotografica perché da quelle fotografie, se non erro, lui prendeva spunto anche per i suoi bellissimi disegni. Certo. Romeo Musa fu un bravo fotografo e naturalmente, come tanti altri artisti del suo tempo, utilizzò la tecnica fotografica in preparazione delle sue opere d'arte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzava lo scatto per studiare, per osservare, per rappresentare di prima mano, in un certo senso, il soggetto da raffigurare poi nell'opera definitiva. Naturalmente le fotografie scattate da Romeo Musa in Molise, nell'arco di quei nove anni, oggi per noi sono dei documenti preziosissimi, di valore assolutamente inestimabile, perché ci raccontano un Molise che semplicemente non esiste più, ma che è il Molise che ha affascinato tanti e tanti viaggiatori anche in epoche precedenti a quella in questione e che caratterizza ancora oggi in un certo senso almeno la fama, ecco, del Molise vergine, del Molise incontaminato, del Molise in cui la tradizione è ancora custodita e preservata. Il Molise ebbe una notevole importanza nella produzione del Musa, fu quasi uno spartiacque. Qual era lo stile di Musa e cosa amava ritrarre in Molise? Lo stile di Musa risente, come dicevamo anche un po' inizialmente, del originario, diciamo così, registro Liberty, ma anche del repertorio simbolista. In molte opere lui riprende soggetti già affrontati, per esempio, dal suo vecchio maestro Adolfo de Carolis, ma anche dal ben più famoso Segantini, simbolista appunto. Oltre a questo, tuttavia, parlando ad esempio in maniera un po' più specifica della pittura di Romeo Musa, vediamo come la pennellata sia molto sottile, quasi filamentosa. Questo non tanto, diciamo così, per riprendere tecniche proprie di altre correnti artistiche, quanto piuttosto per una disposizione caratteristica e peculiare di Romeo Musa. Mi spiego meglio. Evidentemente questa pennellata così sottile ha un qualche legame con il tratto xilografico, con l'incisione, che fu, diciamo così, la tecnica che più rappresentò, senza alcun dubbio, Romeo Musa artista. Dopodiché anche la tavolozza, quindi l'uso dei colori, che chiaramente è un qualcosa di assente nelle xilografie, ma che fa da padrone nelle tele, nelle opere pittoriche, così come negli affreschi, sono caratterizzati da una grande vivacità. Sono colori sostanzialmente brillanti. Anche se le scene sono ad esempio dei notturni, quindi sono scene buie, noi vediamo sempre dei colori caratterizzanti e appunto brillanti. Anche le figure sono ben tratteggiate nei particolari, nelle espressioni, insomma nella descrizione del paesaggio con gli alberi, anche quelli più lontani vengono raffigurati in maniera quasi perfetta. Certo, la linea fa sicuramente da padrone nelle opere di Musa. Se noi vedessimo le prime sue opere, ma soprattutto se noi attenzionassimo soprattutto le incisioni, le xilografie, vedremmo benissimo come i contorni sono estremamente ben definiti. I contorni così come i particolari, i lineari, persino del cielo addirittura, dell'erba, che potrebbero essere dei dettagli, diciamo così, un po' più marginali, un po' più trascurabili. Per Musa non era così. In alcune opere c'è una precisione tale per cui noi riusciamo a distinguere addirittura le specie vegetali che compongono il prato. Riusciamo, non so, a distinguere le erbe di montagna, i cardi e tanti altri fiori. Era particolarmente attratto dal mondo popolare che immortalava nei suoi acquarelli il rapporto uomo-natura, uomo-campi, uomo-terra, uomo-animali. Il dettaglio per cui Romeo Musa girò praticamente in lungo e largo il territorio di quella che allora era la provincia di Molise, ancora parte integrante degli Abruzzi, non è assolutamente di secondaria importanza, anzi l'esatto contrario. Perché? Perché Romeo Musa, al di là dell'attività professionale chiaramente, investiva il suo tempo proprio in questo, proprio nel girovagare in Molise, ma non semplicemente per realizzare delle opere in plein air, assolutamente no. La sua era proprio una febbrile ricerca di soggetti da rappresentare. Soggetti che lui trovava, diciamo così, in gran copia nelle nostre terre. Lui era costantemente stimolato dal paesaggio molisano, paesaggio che chiaramente non si limita alla natura, cheppure era molto molto interessante per lui, ma paesaggio che includeva anche gli animali, includeva anche gli esseri umani, i pastori, i contadini, tutti esponenti e membri però del mondo popolare. Perché questo fu un altro grande tassello della sua intera opera. Nella sua permanenza in Molise realizzò tante opere, ritraendo il lavoro dei campi, castelli, monumenti, le feste popolari, anche quelle allestite dal fascismo, ritrasse donne con costumi popolari e disegnò e dipinse anche importanti cicli pittorici, come al convitto Mario Pagano di Campobasso. Come Omusa, anche durante il soggiorno molisano, ricevette molti incarichi di natura pubblica. Tra questi, nel 1929, ricevette l'incarico di realizzare un ciclo pittorico per quello che allora si chiamava ancora Reggio Convitto Nazionale Mario Pagano e che ancora oggi, fortunatamente, fanno bella mostra di sé dell'Aulamagna in cui ci troviamo anche in questo momento. Sono 12 tele di grande formato che raccontano dei luoghi del Molise, luoghi accanto anche a tradizioni molisane, che ancora oggi, e questo è il primo elemento sorprendente, sono dei biglietti da visita che il Molise può presentare, che il Molise può vantare, anche per fini turistici. Alcuni dei luoghi rappresentati da Musa e alcune delle tradizioni rappresentate da Musa ancora oggi fanno parte integrante delle campagne pubblicitarie turistiche della Regione Molise. Grazie a tutti! Grazie a tutti!